Io ringrazio Radio Prima e Radio Italiana perché facciamo la promozione nelle due radio. Grazie mille e ti ritroveremo sulla Radio Prima. Sicuramente, potrebbe essere una buona occasione per chi... Buonasera, se ci siamo molti sentiti, noi stiamo in studio Radio Prima, vi siete qua con Enza, non potete vi? Adesso c'è Caroli Cagol Baudà, del Conservatorio di Mim. A ripetere, stanno arrivando e noi partiamo. A tutta l'ora e vi vediamo il tuo tractor! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!